ma quanti turicchia c'erano oggi in campo? io non so, e allora a destra è turicchia va a pressare e a sinistra è turicchia va a pressare e in avanti è turicchia fa una bella azione e indietro è turicchia ripiega e contrasta e a centrocampo è turicchia recupera palloni e che caspita, cioè l'hanno clonato? vabbè, bravo turicchia beh, anche Omic non scherzava, per poco lo trovavamo anche in porta ormai vabbè, sto parlando ovviamente della Juventus primavera c'è appena stata la partita di Coppa Italia Juventus Sampdoria che si è giocata a Vinovo la Juve ha vinto 2-1, soffrendo parecchio nel finale, devo dirlo e appunto turicchia e Omic sono stati monumentali anche De Winter e Zango, Zongo, l'altro difensore sono stati bravini nei primi 20 minuti non ci ho capito niente perché si sono scambiati i numeri di maglia e io sono andata nel più completo pallone sono andata nel pallone, intanto mi chiamano, vabbè fatto sta che appunto c'era Bonetti che aveva la numero 10 che di solito è di Sule non era in campo di solito da Graca mi sembra che abbia la 9 e oggi ce l'aveva Cerri poi da Graca aveva la 11 e anche la 11 di solito è di qualcun altro mi sembra e Barrenecea aveva la 8, di solito la 8 alla porta Miretti, non ci capivo niente infatti non avevo visto la formazione per buoni 10 minuti pensavo ci fosse in campo Miretti al posto di Barrenecea dopo l'hanno nominato e quindi ecco ho guardato la formazione allora andiamo in svantaggio all'inizio diciamo il portiere che giocava il secondo portiere oggi non Garofani, Sinco, Sonco, beh lui praticamente esce con i pugni, lo fa male la palla rimane disponibile per Mariale della Samp che tira con un pallonetto e nessun difensore era andato a coprire la porta mentre il portiere era uscito dai pali quindi gol della Sampdoria prima di 10 minuti, prima del decimo minuto poi la Juventus reagisce, reagisce bene allora praticamente Omic fa una bella azione poi fa un cross che sembrava andare sul fondo in realtà però Turicchia ci crede e ci arriva e mette in mezzo per Cherry che praticamente stoppa e calcia subito sul primo palo e fa gol un po' colpevole anche il portiere perché è il tuo palo, devi coprirlo poi la Juventus va in vantaggio con un calcio di rigore Turicchia entra in area, fa una bella azione in due lo chiudono, uno di due però con un fallo e quindi calcio di rigore per la Juve Barrenecea lo segna abbiamo avuto altre occasioni per fare il 3 a 1 c'è da dire che secondo me c'era un rigore per la Sampdoria non l'ultimo sul secondo tempo perché lì chiedevano rigore ma aveva il braccio dietro la schiena nel primo tempo mi sembra che Zangoli scusate non mi ricordo come si chiama beh il difensore non The Winter l'altro mi sembra che lì l'avesse presa di mano e il braccio era larghissimo mi sembra quindi lì poteva forse esserci un rigore però vabbè non c'è il VAR, l'errore umano ci sta partita appunto che nel secondo tempo è stata tanto sofferta perché la Juve riusciva poco a ripartire quelle rare volte che ci riusciva ci incasinava un po' la vita è arrivata davanti alla porta due volte e il portiere ha risposto bene due volte è anche vero che è sempre stato chiamato in causa sul suo palo quindi giustamente ha parato ne sono entrati altri però fatto sta che quelli che sono scesi in campo oggi hanno giocato abbastanza bene la Gracca ha ripiegato tanto in fase difensiva Cherry anche poi appunto Omic e Turicchi erano ovunque i due difensori hanno fatto abbastanza bene Leo anche ha fatto bene su quella fascia e niente sono contenta, siamo passati adesso non mi ricordo più se saranno quarti o semifinali comunque incontriamo la vincente di Fiorentina-Milan che stanno giocando adesso e ecco, dipende se passa la Fiorentina giochiamo in trasferta mi sembra se passa il Milan forse è da definire non lo so vabbè, sono contenta bravi ragazzi della primavera sempre fino alla fine forza Juve ragazzi e noi ci vediamo stasera che gioca l'Under 23 ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti